Idea velocissima per un aperitivo e un antipasto irresistibile Gamberi che andiamo a pulire E via anche l'intestino Gamberi un attimo da parte Mortaio Aglio Peperoncino dolce Bel pizzico di sale Origano Prezzemolo Olio extravergine Scorza E succo di limone Lasciamo marinare 10 minuti Li facciamo bene abbrustolire Profumo incredibile Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille